Lasciatoci alle spalle il Ferragosto, in località Comunia di Lazzaro sono iniziati i lavori di spegnimento della combustione dei fanghi di depurazione essiccati. Aria irrespirabile e notevoli fumi hanno invaso in queste ore tutto il territorio circostante, arrecando disagi all'abitato. Un ritardo fa sapere l'ancadic ingiustificabile e ora si attende un'adeguata risposta da parte delle istituzioni dello Stato. Circa oltretutto l'eventuale bonifica e risanamento ambientale dei siti interessati dal deposito dei fanghi di depurazione. Da una nota diramata dal sindaco di Motta San Giovanni si è appreso che a conclusione di un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco e di Arpacal il materiale depositato non è altro che sostanza organica e ciò non può essere categorizzato come rifiuto e altresì in quanto tale non comporterebbe emissioni di pericolosità. Ma l'ancadic non sta a guardare e chiede che tale indagine venga condotta da un medico di igiene e sanità pubblica. Chi osa il referente unico di Ancadic, Vincenzo Crea, non è il tecnico che fa la diagnosi.